Una schedina da 3 euro che ha centrato i sei numeri vincenti 56, 52, 40, 9, 10, 19, jolly 50, superstar 42. È stato giocato a Rovigo nella tabaccheria di Viale Tre Martiri, il tagliando vincente con una giocata da tastiera con numeri completamente casuali. La Dabendata ha fruttato una cifra astronomica 85.102.812,24 euro. È il quarto 6 del 2023, una vincita che in Veneto non si vedeva dal 2017. Una clientela abituale, quella della tabaccheria, con persone che vivono nei dintorni, ma anche persone di passaggio, visto che l'esercizio si trova nella porta di accesso alla città a ridosso dell'ospedale. Il vincitore adesso ha 90 giorni di tempo per presentare la ricevuta della giocata. Dopo la pubblicazione del bollettino ufficiale sul sito del Super Enalotto, dovrà presentarsi negli uffici premi di Sisal, a Milano o a Roma. Circa 17 milioni di euro del jackpot accentrato finiranno nelle casse dello Stato.